Faccio mezzo passo Anche qui lavoriamo sempre sui lati Non partite di fronte al cavallo Perché il cavallo potrebbe saltare in avanti Faccio mezzo passo In tensione ma non ancora reattivo Avvicino Ok Qua cominciamo ad avere una reazione Vedete come lascio sempre il cavallo fuggire Quando vi è con lui Lo seguo Con alcuni cavalli in questi casi C'è anche da correre Perché la fuga è molto rapida Cerco di controllare il naso Per non mettermi in una condizione di pericolo Però li lascio succhire Non li devo bloccare